e vogliamo subito iniziare con leggere un verso che si trova nell'epistola ai romani capitolo 8 il verso 29 ed è scritto così perché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi alla somiglianza di suo figlio affinché egli sia il primo genito fra molti fratelli amen cari c'è un grande proposito di dio preparato per la nostra vita ognuno di noi deve diventare all'immagine alla somiglianza del nostro signore gesù amen quindi lo spirito santo ha iniziato questo lavoro nella nostra vita e lui è fedele da portarlo a termine attraverso sempre la nostra disponibilità sapete molte persone non sanno quello che sta succedendo sono confusi non riescono ad orientarsi nelle situazioni che stiamo vivendo in questo tempo però voglio dirvi una cosa è rassicurare il vostro cuore dio ha tutto sotto controllo e lì vuole che anche la tua vita possa andare sotto al suo controllo amen a dio non passa niente inosservato tutto quello che sta succedendo per dio non è state non sarà e non è una sorpresa ma dio ha ogni cosa sotto il suo controllo e stasera voglio parlarvi della direzione che dio vuole darci per i tempi della fine stiamo negli ultimi tempi gesù sta tornando amen questo ce lo testimoniano la parola profeticamente parlando ce lo testimonia l'orologio divino sulla terra che israele tutto quello che sta succedendo in israele ci testimonia del ritorno di cristo gesù è vicino il rapimento della chiesa è prossimo amen e come abbiamo già condiviso domenica dicevo già prima riguardante la pentecoste e dopo la settimana che abbiamo parlato della pentecoste dove abbiamo ricevuto impartizione di fuoco e di potenza quando l'avete ricevuto il resto non l'avete ricevuto ci siete cerchiamo di interagire ok io dico pronto e tu dici chi è pronto ecco qua amen quindi qui ha ricevuto impartizione attraverso la fede dolce ma crescente amen perché ci stiamo avvicinando ai tempi della fine e quindi quello che dio ha promesso nella sua parola si deve concretizzare e realizzare una grande raccolta amen non avete risposto ci deve essere una grande raccolta perché dio non mente quello che dio dice sì ed amen e quindi stasera vogliamo cercare di poterci indirizzare verso quello che dio naturalmente vuole fare nella nostra vita quindi la direzione per i tempi della fine ripeto dio ha le idee chiare sa quello che sta succedendo ma noi dobbiamo allinearci perfettamente con la sua volontà stiamo passando una pandemia già ormai da un sacco di tempo situazioni di chiusura di apertura quindi isolamenti e così via e sapete quello che possiamo renderci conto è questo che tante persone che un giorno erano qui nel nostro mezzo non ci sono più e tanti che non erano oggi sono qui però dio non vuole perderne nessuno dillo dio non vuole perderne nessuno però purtroppo questo ci ha dato la testimonianza di che cosa che le fondamenta nella vita di quelle persone non erano profonde e dio vuole che noi possiamo mettere le nostre fondamenta in profondità perché qualsiasi circostanza situazione si presenterà noi possiamo rimanere fermi e stabili in quella che è la volontà di dio per la nostra vita amen dio non vuole che nessuno si perda questa è la volontà di dio dio vuole che tutti siano salvati vengono a conoscenza della verità e questa è la parte che dio ha fatto attraverso l'opera della croce di gesù questo è quello che lo spirito santo fa nella nostra vita attraverso il guidarci lì ci vorrebbe guidare il convincerci ma ci sta una parte che dobbiamo fare noi la nostra obbedienza la rinuncia a determinate situazioni che ci non fanno altro che allontanarci dalla presenza di dio non le può prendere dio per noi queste decisioni siamo chiamati a prenderle noi dillo sono chiamato a prenderle io e quindi ogni oggi viviamo situazioni particolari come dicevo prima di fronte a tanti problemi e situazioni è venuto fuori qualcosa riguardante la chiesa l'immaturità dillo immaturità questo è il frutto di una grande ignoranza biblica e non solo soprattutto i tempi che stiamo vivendo sapete ci sono delle cose che succederanno e sicuramente voi ne avete fatto esperienza l'amore di molti si raffredderà e forse ti è venuto in avendo visto una determinata persona comportarsi in un determinato modo napoletanamente parlando hai detto ma che ha passato ti è successo e purtroppo ci sono delle situazioni spirituali nel mondo spirituali che noi dobbiamo prendere consapevolezza e coscienza e quindi quello è il momento in cui non possiamo più permetterci di essere immaturi è il tempo di crescere è il tempo di maturare è il tempo di portare avanti quello che dio ha depositato e vuole depositare nel nostro cuore e nella nostra vita e quindi per iniziare voglio darvi alcune cose un consiglio molto importante che vi permetterà di rimanere stabili perché quello che fa la differenza è dove tu guardi spiritualmente parlando dove tu guardi fa la differenza nella tua vita perché ne vedremo tra un minuto dove Gesù ha guardato e quello che Gesù ha ricevuto perché il suo guardare è stato un guardare ben preciso e la Bibbia non lo dice a caso ma se dice che lui stava guardando in quella direzione ci invita anche a noi nella stessa maniera di guardare in quella direzione perché se guardi indietro cosa trovi trovi la sconfitta nella tua vita un giorno disse Gesù guai a colui che ha messo le mani all'aratro e poi guarda indietro non è adatto per il regno di dio sapete una delle caratteristiche dell'armatura di dio per la nostra vita come scritto in efesi che c'ha un sacco di pezzi scudo c'ha la spada c'ha l'elmo c'ha la corazza c'ha la cintura c'è calzari ma tutto protegge il davanti il lato di dietro è tutto scoperto lo sapete perché perché dio pensa per te sempre la vittoria dio non ha figli che vivono e camminano nella sconfitta quindi il pensiero di dio per la tua vita è che tu devi andare sempre avanti che non girerai mai le spalle al nemico perché al momento che giri le spalle subito ti pugnalerà e ti ucciderà ma tu non glielo devi permettere quindi quale direzione dobbiamo guardare sicuramente non dobbiamo guardare dietro ricordate il popolo di israele quando era nel deserto hanno ad un certo punto 40 anni nel deserto una provvidenza sovrannaturale divina più di due milioni di persone hanno visto la manna scendere dal cielo hanno visto arrivare la carne attraverso le quaglie hanno visto i vestiti allungarsi hanno visto una provvidenza divina in un deserto provveduti di acqua sapete una delle cose che una città deve studiarsi deve stare vicino a una sorgente a quei tempi sapevano molto bene che una famiglia che un popolo che stava nascendo per poter sopravvivere avevano bisogno della fonte di acqua e di ha provveduto in un modo sovrannaturale amen ma che hanno fatto si sono girati hanno guardato quando erano in egitto e hanno pensato le cipolle che stavano in egitto l'agli che ci mangiavamo in egitto hanno girato le spalle e sapete voi se leggete nel nel libro dei numeri ci sono i dieci mormori che ha compiuto israele nel deserto e nessuno di loro è entrato nella terra promessa solo la nuova generazione solo due di loro sono entrati della vecchia generazione giosuè caleb perché perché erano di un altro spirito perché quando sono stati inviati ad esplorare il paese davanti a loro non hanno detto come le altre dieci spie ci sono giganti ci divorano mi dovevamo sembrare come delle cavallette davanti a loro no loro hanno detto se l'eterno ce l'ha dati nelle mani noi li conquisteremo ma sapete tutto il resto cosa hanno fatto hanno girato le spalle e hanno guardato indietro dillo indietro non si guarda perché quando guardi indietro perdi vivi la sconfitta in un'altra direzione che non devi guardare attorno perché quando guardi attorno ti guardi attorno sapete che succede se sei distratto è triste vedere come tante persone nella chiesa si guardano attorno sapete che significa guardarsi attorno significa guardare i difetti del fratello significa guardare i difetti delle sorelle significa guardare quello che loro dovrebbero avere ma non c'hanno e quindi incominciano ad essere distratti e quando ti guardi attorno diventi distratto hai perso il proposito stai mancando alla volontà di dio nella tua vita dillo non devi guardare attorno perché dovresti prima guardare dentro di te perché l'apostolo paolo ha detto se tu giudichi gli altri e tu fai la medesima cosa che giudizio ci sarà per te non guardare mai attorno dillo non guardare mai attorno quindi molti vengono distratti perché non stanno cercando quello che dio vuole dare a loro ma si stanno guardando attorno nelle persone e trovano le scuse giustificando la loro vita in questa chiesa non c'è amore e o prima che non amore sei tu perché se tu vuoi dare una vuoi fare anche una critica costruttiva porta a un cambiamento non dire solo quello che non c'è ma fai qualcosa per cambiare affinché quello che non c'è ci sia quindi non guardarti attorno perché guardarsi attorno significa essere distratti sapete stanno quelli che il sacrificio di loro stessi non lo compiono mai stanno davanti all'altare e poi sono fuine vanno davanti all'altare e poi scappano via e dio invece ti sta dicendo ma quant'è che ti offri come sacrificio vivente sull'altare romani 12 il verso 1 un sacrificio che è santo accettevole sacrifici spirituali che dio ci chiama a compiere nella sua presenza amen gesù ha detto che devi rinnegare te stesso per seguire la sua volontà e tanti si guardano attorno però sapete una cosa e voglio che tu impari questa lezione quando tu guardi attorno quello che c'hanno gli altri il primo ad avercelo sei tu quando tu dici che ce l'hanno gli altri ce l'hai tu lo vivi tu è la tua realtà perché se tu hai l'amore di cristo nel tuo cuore tu non guardi attorno tu non ti soffermi attorno ma tu guardi in un'altra direzione perché quello che gli altri giudicano degli altri i primi a compierlo sono loro stessi i primi a viverlo sono loro stessi e mentre tu ascolti quello che dice di quella cosa di quella persona è perché lui lo vive è perché lei lo vive e dio ti sta chiamando a sacrificare te stesso non guardare indietro non guardarti attorno non guardare in basso altri dove guardano guardano in basso sapete quando tu guardi in basso entri nello scoraggiamento infatti tutti quelli che guardano in basso vivono la vita scoraggiato mamma mia non devi guardare attorno non devi guardare indietro non devi guardare in basso perché se no vivi nello scoraggiamento hanno sempre gli occhi sui propri fallimenti e il diavolo lavora sui sensi di colpe e di condanna nella tua vita sei un fallito e tu dici sì hai ragione e Gesù invece ti dice tu sei più che vincitore e vuole farti realizzare quella che la vittoria che tu hai in Cristo amen in questo modo che succede ci sottraiamo quando guardiamo ai nostri fallimenti dall'affrontare le difficoltà che succedono nella vita ma Gesù dove guardava in ebrei nel capitolo 12 il verso 2 intanto ci dice che dobbiamo tenere gli occhi su Gesù dove devi tenere gli occhi ah mi pensavo che eravamo dei fratelli caro mio hai pensato male tenendo gli occhi su Gesù mettete i paraocchi cioè i paraocchi vanno laterali i cavalli no però ci vanno pure sotto in aria c'è proprio a così una visiera a così lunga lata così a così a così in modo che guardi solo avanti dove Gesù guardava tenendo gli occhi su Gesù autore compitore della nostra fede non è tuo fratello tua sorella il tuo mentore il tuo pastore l'apostolo l'autore il compitore della tua fede l'autore il compitore della tua fede si chiama Gesù colui che ha dato la vita per te colui che non si è risparmiato ma ha versato fino all'ultima goccia del suo sangue in questo modo vedi Gesù come autore e compitore c'è colui che fa nascere la fede e colui che porta a compimento la fede nella tua vita chi è questo è Gesù dove stai guardando perché nella direzione di dove stai guardando fa la differenza nella tua vita non guardare indietro perché si sono perse tante persone perché non ci sono più qui nel nostro mezzo ma che fino a fatto che lo fratella ma che fino a fatto che la sorella perché hanno guardato indietro perché hanno guardato attorno perché hanno guardato in basso perché non hanno guardato dove Gesù ha detto che dovevano guardare tenendo gli occhi su autore e compitore della nostra fede e poi ci dà un consiglio perché lui dice io simpatizzo con le vostre debolezze con le vostre mancanze perché prima l'ho dovuto sopportare e l'ho dovuto vivere io nella mia vita il quale per la gioia che gli era posta davanti dove devi guardare dove guardava Gesù dove guardava Gesù Gesù guardava avanti per la gioia che gli era posta davanti vuoi superare le prove le tentazioni i momenti di che abbiamo vissuto di pandemia e le persecuzioni che arriveranno verso la chiesa vuoi rimanere fermo vuoi rimanere stabile nella fede guarda avanti non guardare attorno non guardare in basso non guardare indietro guarda avanti all'autore e al compitore della tua fede sapete Gesù ha passato un momento non felice molto difficile cioè noi non possiamo immaginare perché tu per i tuoi peccati personali ti sei ridotto come sai immaginate che Gesù ha preso i suoi 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 oggi sette miliardi e mezzo di persone i peccati di ognuno su di sé immaginate in tutta la storia cosa si è dovuto caricare quindi immaginate il peso di una persona di una famiglia di un popolo del mondo intero su Cristo il quale per la gioia che gli era posta dinanzi il proposito di Dio per la sua vita per la gioia che era posta dinanzi la salvezza tua la salvezza mia noi per Gesù in quel momento lui ci ha visto in ispirito lui ha visto che tu un giorno avresti accettato Gesù come signore della tua vita quello che è successo stasera nella tua vita e lui per la gioia della tua salvezza della tua salvezza della tua salvezza delle persone salvate cosa ha fatto guardando avanti soffri la croce disse sì io soffrirò il prezzo sarà alto che dovrò pagare però quello che mi dà forza è guardare avanti quello che ti darà forza è guardare avanti soffri la croce disprezzò il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio amen dove si è messo a sedere alla destra vuoi sedere dove è seduto Gesù vuoi stare dove è stato Gesù non guardare di lato non guardare indietro non guardare in basso guardi avanti guarda Gesù l'autore è il compitore della tua fede amen fatelo forte un applauso al re Gesù quindi smettila di guardare le persone non sono loro quelli che sono il compimento della tua fede è Gesù la tua fede non è non deve essere poggiata sulle persone ma su Cristo amen e sostenerci gli uni gli altri e quando succede che qualcuno si dovesse sviare e inizia a guardare attorno inizia a guardare in basso inizia a guardare dietro deve trovare a fianco uno come te che gli dice ma dove stai guardando perché hai smesso di guardare Gesù dillo ma quante volte glielo dovrò dire sempre ogni volta che si presenta il bisogno ogni volta che si presenta il problema amen volete passare i momenti difficili che stanno per arrivare ci siete volete vincerli ci grande raccolta vedremo moltitudini venire a Gesù amen vedremo prosperità nella chiesa vedremo migliaia di persone convertirsi in tutto il mondo grande raccolta ultima pioggia per la grande raccolta che non deve iniziare già iniziata ma ci sarà anche la persecuzione contro la chiesa come potrai vincere la persecuzione come potrai superare i momenti difficili guardando Gesù guardando Gesù tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della tua fede dillo voglio mettere i miei occhi su Gesù voglio mettermi i paraocchi a guardare Gesù non voglio distrarmi dal guardare Gesù quando qualcuno ti viene in su ti dice qualcosa e incomincia a dire ma hai visto che ha fatto fratello ma non guarda non posso presto guardando a Gesù sto guardando a Gesù ho i miei occhi su Gesù e quando dicono ma non si capisce niente vedi che sta succedendo no 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 guarda non posso guardare ho i miei occhi sfissi su Cristo sul re amen perché lui è l'autore perché lui è il compitore della nostra fede ci saranno persecuzioni per il mondo per la chiesa ci saranno persecuzioni per il mondo il tempo non sarà facile però vi dico una cosa mettetelo in conto la nostra destinazione finale non è rimanere in questo mondo amen dillo non è questo mondo Gesù ha detto io vado a prepararmi un posto dove starò io starete anche voi Gesù io voglio stare dove stai tu posso dirvi una cosa in confidenza pure nell'inferno l'importante che ci sta Gesù cioè dovunque lui sta non mi interessa il luogo l'importante che c'è lui ma staremo in un posto glorioso quindi non vi affezionate alle cose terrene abbiate i vostri occhi sempre fissi su Gesù Gesù autore e compitore della tua fede amen ora per questi ultimi tempi io voglio parlarvi adesso di tre principi o di tre principali obiettivi di dio per la nostra vita cioè quello che noi dobbiamo guardare avanti dio non ha perso il controllo amen dio ha tutto sotto controllo e la bibbia ci rivela queste cose e noi cercheremo di piegare spiegarle stasera perché il primo principio primo obiettivo di dio sapete qual è un solo capo nei cieli e sulla terra dirlo nei cieli e sulla terra dio ha rivelato sin dall'inizio quali erano le sue intenzioni finali quello che sarebbe successo nel compimento dei tempi cari i tempi si stanno compiendo e dio ha detto che nel compimento dei tempi andiamo verso la realizzazione che ci sarà un solo capo nei cieli e sulla terra da dove lo leggiamo e efesi capitolo 1 il verso 10 per raccogliere dirlo raccogliere quindi significa mettere insieme nella dispensazione del compimento dei tempi dispensazione del compimento dei tempi cos'è il tempo il tempo è una creazione divina dio ha creato il tempo il tempo è una parentesi nell'eternità togli la parentesi e sei nell'eternità tu sei un essere eterno sei stato creato per non morire più anche se un giorno lascerai il tuo corpo tu sei proiettato nell'eternità amen questo ha a che fare con l'eternità quindi siamo in un tempo dove dio ha un proposito e questo ha attivato un processo in ognuno di noi perciò stiamo in una fase dove determinate cose a livello personale viviamo e le dobbiamo sopportare perché c'è un processo in atto c'è un'opera divina in atto di cambiamento e di trasformazione nella nostra vita perciò l'apostolo paolo e qui l'apostolo paolo ci dice che quando saremo giunti nella dispensazione del compimento dei tempi dio raccoglierà nel compimento dei tempi dio raccoglierà sotto un solo capo chi è questo capo in cristo tutte le cose tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra tutto ciò che nel cielo ubbidisce dio tutto ciò che sarà sulla terra ubbidirà dio raccolto dove in un solo capo quindi l'intenzione finale che dio ha qual è e portarci sotto un solo capo in cristo amen quindi se sai come finirà cosa farai cercherai la sapienza cercherai la saggezza per compiere per portare a compimento e per comportarti durante la tua vita terrena nel modo migliore amen eviterai di perdere tempo tanti cosa fanno perdono tempo letteralmente perdono tempo in cose inutili in cose che non portano cambiamento in cose che non ti porterai dall'altra parte quindi la saggezza ci dice questo se sai come finirà sai come finirà io ho letto l'ultimo libro io ho letto l'ultima pagina e dio ha detto che ci sarà un solo capo e questo unico capo nel cielo e sulla terra si chiama Gesù Cristo amen quindi sei sai come finirà ti comporterai con saggezza non perdendo le cose inutili non ci perderemo in cose futili che non hanno futuro nella nostra vita tanti edificano 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 ma sono cose che non avranno futuro amen quindi edifica per cose che hanno futuro saremo impegnate alle cose del regno di dio a realizzare quella che è la sua preziosa e meravigliosa volontà questo è il primo obiettivo principale che dio vuole che noi abbiamo oggi come chiesa e dio ci sta dicendo sappiate questo abbiate in mente questo ci sarà un solo capo sulla terra e nel cielo sapete che fa il diavolo sta dando gli ultimi colpi di coda per cercare di portare quanto più scoraggiamento nella vita della chiesa ma tu non glielo devi permettere tu hai bisogno di conoscere quello che dio ha detto nella sua parola amen devi rimanere fondato su quello che dio ha detto e gli dici corri corri tanto i conti si faranno alla fine sei uno sconfitto sei un perdente Cristo deve trionfare e vincere nella mia vita lui è l'unico capo che dio ha stabilito sulla terra e nel cielo lì già regna nel cielo ma deve succedere sulla terra la preghiera che gesù fece padre nostro che sei nei cieli ci insegnò il modello di preghiera sia fatta la tua volontà come fatta nel cielo sulla terra sapete quando verrà realizzata appieno questa preghiera quando ci sarà un solo capo quando Cristo regnerà sulla terra amen secondo obiettivo un solo capo il primo obiettivo il secondo obiettivo un solo regno con tutti i nemici che vengono rimossi primo corinzi 15 24 guardate cosa scrive Pavolo poi verrà la fine quando rimarrà rimarrà rimetterà il regno nelle mani di dio padre cosa rimetterà gesù nelle mani di dio padre il regno lo scopo finale di dio è il regno di dio amen la chiesa è un mezzo che dio usa per poter manifestare il regno ma lo scopo finale non è la chiesa è il regno di il regno lo scopo finale quindi la chiesa è uno strumento del regno che dio usa per manifestare la sua potenza quando consegnerà il regno nelle mani del padre dopo avverrà la fine quando rimetterà il regno nelle mani di dio padre dopo aver annientato di l'annientato che significa annientare padre significa rendere nullo significa rendere vano il diavolo cos'è è niente mescolato con nulla amen e niente ammiscato con nulla se vuoi avere una difetti una definizione di satana lui è niente mescolato con nulla sapete gli dai tu tanta importanza gli dai tu tanto peso e tanto valore ma gesù l'ha sfogliato lo ha fatto diventare un pubblico spettacolo dopo aver annientato andiamo alla parola dopo aver annientato ogni dominio ogni potestà e ogni potenza queste sono cose che si oppongono all'autorità di dio e dio li annienterà ci sei li governerà con verga e con ferro sapete che significa con forte potere verso 25 bisogna infatti che egli regna finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi dillo tutti i nemici chi è il tuo nemico non è tua suocera benedici le tua suocera non è il tuo vicino di casa non è il tuo dadore di lavoro non è il tuo nemico quello che ti ha offeso i tuoi nemici la bibbia ci identifica tre nemici principali nella nostra vita sapete quale sono è la nostra carne dillo verrà il momento che dio vincerà io metterò la mia carne la mia carnaccia sotto i piedi il presente malvagio secolo che si indente come il mondo presente malvagio secolo è il secondo nemico è il terzo nemico il diavolo amen bisogna infatti che gli regna finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi e se ce ne sono altri andranno tutti quanti a fare quella fine cioè sotto i tuoi piedi verso 26 c'è anche un altro nemico sapete qual è è la morte quando si parla della morte le persone hanno terrore hanno paura c'è cosa è successo con questa pandemia cioè ti potrebbero iniettare qualsiasi cosa nelle vene l'importante che non muore trasmesso un pensiero unico trasmesso una condizione dove le persone sono state soggiocate qualsiasi cosa ti potrebbero iniettare per paura della morte il verso 26 l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte dillo non ha creato la morte la morte è venuta per causa del peccato cosa dice nell'epistola romani infatti il salario del peccato la ricompensa del peccato la paga del peccato è la morte una volta che il peccato verrà tolto e verrà messo sotto i piedi di gesù sapete che succede la morte non ci sarà più non potrà più regnare sulla nostra vita distrutto il peccato sarà distrutta anche la morte amen ci siete questo è il secondo obiettivo un regno dove non ci sarà più nemici perché saranno tutti annientati amen di cui anche la morte un solo regno un solo re senza nemici terzo obiettivo che dio ci sta trasferendo stasera prima un solo capo poi un solo regno una sola famiglia una sola famiglia dillo una sola famiglia la famiglia di dio una sola famiglia in questo si realizzerà il proposito originale di dio avere figli per l'eternità amen rileggendo romani capitolo 8 il verso 29 parla di che cosa del proposito di dio di essere come il figlio come l'unigenito figlio di dio il primogenito figlio di dio ascoltate poiché quelli che egli ha preconosciuti di anche predestinati ad essere conformi alla somiglianza voi trovate scritto se avete la vostra bibbia all'immagine ma la parola migliore somiglianza di suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli se lui è il primo genito fra molti fratelli e si intende anche sorelle amen di cosa vi parla questo di una famiglia un solo capo un solo regno una sola famiglia dillo una sola famiglia quindi il proposito di dio è conformarci alla somiglianza di gesù per essere che cosa una sola famiglia sulla terra sapete così come la terra nel piano originale di dio doveva essere popolata solo dai figli di adamo così sarà popolata solo dai figli di dio come succederà il tempo rapimento battaglia di gog e magog rapimento sette anni di tribolazioni sulla terra noi staremo in cielo a festeggiare le nostre degli agnello e non solo a ricevere i premi davanti al tribunale di cristo che viene chiamato bema poi ritorneremo dopo i sette anni il diavolo verrà legato e noi regneremo sulla terra per le per mille anni scusate regneremo qui sulla terra per mille anni poi ci sarà il giudizio del gran trono bianco dove tutti i vivi e morti saranno giudicati non sarà un giudizio di salvezza ma solo di condanna e poi dio stabilirà che cosa nuovi cieli e nuova terra dove regnerà la giustizia amen la bibbia dice che noi siamo re sacerdoti e questo lo inizieremo e oggi già stiamo iniziando e già siamo re sacerdoti ma la nostra funzione non è ancora attiva ma durante il millennio inizierà ad essere attiva regneremo come re regine sacerdoti dell'idio altissimo amen ti stai rallegrando di queste cose dio ha detto guarda avanti questi sono il mio proposito il mio obiettivo abbiamo detto non guardare in basso non guardare attorno non guardare indietro guarda avanti dio ha un grande progetto preparato per la sua chiesa preparato per la tua vita dio ti sta dicendo guarda avanti ora ascoltate tutte e tre obiettivi che abbiamo parlato un solo capo niciele sulla terra un solo regno con tutti i nemici che vengono rimossi una sola famiglia li ritroviamo in un solo verso primo corinzi 15 28 paolo dice e quando ogni cosa gli sarà sottoposta di ogni cosa gli sarà sottoposta allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché dio uno e trino sia tutto in tutti ascoltate quando qui trovate la parola dio si riferisce a dio padre si riferisce a dio figlio si riferisce a dio spirito santo dio padre che ha il proposito ed è quello di realizzare una famiglia dio figlio che ha il proposito ed è quello di realizzare di portare avanti la sua sposa dio spirito santo ha un proposito ed è quello di preparare un tempio noi siamo il tempio dello spirito santo dio vive dentro di noi finalmente dio sarà tutto in tutti e la terra sarà piena di sacerdoti e di re già lo siamo adesso però in quel tempo vi dicevo noi funzioneremo come sacerdoti e re ci sei dillo un solo capo un solo regno una sola famiglia un solo capo un solo regno una sola famiglia abbiamo spiegato questi tre obiettivi adesso dobbiamo capire come poterli realizzare praticamente nella nostra vita come possiamo fare per realizzarli nella nostra vita pratica sapete dio ci ha dato dei principi della parola e in questi principi noi ci dobbiamo sottomettere perché solo in questo modo noi realizzeremo quello che dio ha posto come obiettivi nella nostra vita quelle che dio ha come obiettivi per la nostra vita quali sono questi principi che ci permettono di poter realizzare l'intenzione finale di dio dentro di noi quali sono il primo è la paternità dite paternità paternità benedite i padri benedite i padri benedite i padri sapete quello che sta succedendo negli ultimi tempi è quello di togliere la figura la figura paterna la figura del padre la figura dell'uomo all'interno della casa ma è già stato fatto perché se voi leggete nel libro della genesi gli angeli decatuti si vogliono raccoppiare con le figlie degli uomini sulla terra sapete qual era l'obiettivo imbastardire la razza umana perché perché doveva venire il messia perché yeshua doveva nascere e l'obiettivo era se noi imbastardiamo la razza umana quindi con questi demoni che si accoppiano con gli uomini con le figlie degli uomini noi non non faremo realizzare il proposito di dio ma il diavolo si è fatto conto sbagliata sapete che successe all'epoca dio prese questi angeli decatuti e li mise nel tartaro dell'inferno nelle parti più profonde e li ha imprigionati perché era così malvagio era così diabolico il pensiero che li ha messi in quella condizione quindi si ripete la storia si ripete la storia io voglio che mi ascoltate fino alla fine perché ci sono movimenti che sono sorti negli ultimi tempi negli ultimi 50 anni negli ultimi anni negli ultimi mesi uno di questi è il femminismo che vuole stabilire la dignità della donna donne dio vi ha dato dignità la donna non è inferiore all'uomo la donna è al sesso pari dell'uomo per quanto riguarda la dignità ma ci arriveremo è l'ultima legge che si sta combattendo per approvare sapete qual è lo scopo è distruggere la famiglia e quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo sicuramente portare avanti quello che il proposito di dio dio ha creato la famiglia ve ne parlerò nella prossimo giovedì domenica dio ha creato la famiglia approfondiremo perché abbiamo detto un solo capo un solo regno una sola famiglia dio ha creato la famiglia amen per realizzare queste cose il primo principio che dio ci trasmette e ci dice ritornate alla paternità ascolta mi non c'è famiglia senza padre l'origine della famiglia è il padre Gesù non è venuto il padre lo ha mandato non decise lui di venire ma il padre decise di mandarlo e lui ubbidì oggi dobbiamo ritornare imparare questi tre principi il primo abbiamo detto la paternità e le vedremo tra un minuto il secondo la direzione noi abbiamo bisogno di avere una chiara direzione non dobbiamo essere come te tua peppino a milano cioè molti vivono così per andare dove dobbiamo andare per dove dobbiamo andare cioè devo andare a roma prendo l'autostrada per per reggio calabria e pensi che stai andando il lato opposto ci deve essere una chiara direzione e la terza cosa il terzo principio è la comunione questi tre principi ci aiuteranno a fare che cosa a realizzare l'intenzione finale di dio per la nostra vita di cosa ci parla la paternità dite paternità sapete la paternità è importante sia sotto il piano spirituale che sotto il piano naturale e dovremmo essere onesti stasera perché con molta onestà dovremmo ammettere una profonda verità qual è? nel bene e nel male l'influenza maggiore che abbiamo ricevuto nella nostra vita è stata l'influenza di nostro padre non quella di nostra madre e dovremmo ammettere questa verità per quale motivo? perché dio ha creato in questo modo perché ci sono dei principi che devono essere osservati e rispettati la paternità dillo la paternità il padre dà il proprio nome ai figli Efesi 3.14.15 per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al padre del nostro signore Gesù Cristo dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra questo è quello che trasmette la paternità seconda cosa la paternità dà identità ai figli tu non sai chi sei fino a quando il padre non ti dice chi tu sei è successo con Gesù prima di iniziare il suo ministero terreno ed ecco una voce dal cielo che disse questi è il mio amato figlio amen cosa gli stava trasmettendo identità tu sei mio figlio tu sei il mio amato figlio quando è andato nel deserto subito dopo 40 giorni di digiuno notte e giorno non Ramadan che di pomeriggio di giorno digiuni fino al tramonto del sole quando tramonto sole no ma un digiuno notte e giorno è il diavolo che è un vigliacco viene nel momento del bisogno della debolezza se tu sei il figlio di Dio di che queste pietre diventino pane cosa gli aveva detto il padre nel battesimo quando si trovò davanti a Giovanni tu sei il mio amato figlio questi è il mio amato figlio tu sei tu sei il figlio di Dio Gesù aveva afferrato l'identità io sono figlio nessuno mi può rubare la mia identità il padre l'ha confermata nella mia vita con l'identità ci rende consapevoli di chi noi siamo a chi noi apparteniamo papà papà Dio l'onnipotente il creatore del cielo e della terra è papà colui che è il mondo intero nel palmo della sua mano è papà amèn sapete come bambini mi ricordo quando tu andavi a scuola ed eri piccolino e poi tenivano i miei fratelli più grossi ero primogenito purtroppo e quindi tu facevi il grosso perché tenivano le spalle coperte cari davanti al diavolo puoi fare il grosso perché hai le spalle coperte lui è tuo padre io ti mando a mio fratello maggiore tu già l'hai conosciuto quando lui si presenta già hai ricevuto mazzate per mezzo della croce io guardo che ce lo dico questo ti dà identità dillo mi dà identità con l'identità ci rende consapevoli di chi noi siamo siamo figli dillo io sono figlio appartengo a papà ora voglio dirvi una cosa chi è orfano è sempre ha sempre una carenza dentro di sé quello di voler conoscere le sue radici da dove vengo chi è mio padre un padre con i figli è una famiglia una madre con i figli è una vedova avviene una volta o una divorziata quello che stabilisce l'identità è la paternità numero tre la paternità dà sicurezza ai figli la maggior parte della paura che vivono le persone sapete dove hanno le radici nella mancanza della paternità le radici sono nella scarsa relazione con il padre e devi decretarlo in questo momento io sono e sarò guarita guarito stasera da questa mancanza nella mia vita perché sono figlio perché sei figlia perché lui è tuo padre la paternità sapete cosa dà approvazione e affermazione ai figli abbiamo letto questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto il padre gli stava dicendo Gesù tu mi piaci perché sei mio figlio cosa aveva fatto fino a quel momento niente aveva compiuto qualche miracolo no aveva appena iniziato il suo ministero senza aver compiuto nessun miracolo ha detto è andato a battezzarsi per dare inizio al suo ministero e il padre ha detto Gesù mi piaci così mi compiaccio in te amen io voglio dirvi una cosa cari anche nella chiesa si può verificare lo stesso problema persone che vogliono dimostrare pensano che più fanno cose più piacciono al padre non è bisogno di fare cose per piacere a papà tu già gli piaci se sei figlio tu già gli piaci se sei figlia lui si compiace in te quindi devi essere liberato da questa mania di voler fare cose per piacere ma di essere motivato dall'amore nel tuo servizio perché voglio dirti una cosa se tu non prendi cura di questa condizione nel tuo cuore tu cercherai sempre cose e farai cose ma sarai sempre insoddisfatto perché il padre è colui che dà affermazione e approvazione tu hai bisogno di sapere che piaci a qualcuno e che qualcuno ti dice mi piaci per quello che sei coloro che pensano di non piacere a nessuno sapete come finiranno la loro vita nel suicidio tutti noi abbiamo bisogno di essere approvati non viene da quello che fai ma perché sei figlio amén è meraviglioso perché un giorno in cielo i ministeri sono solo per la terra in cielo non ci saranno apostoli non ci saranno profeti non ci saranno pastori non ci saranno evangelisti non ci saranno insegnanti ci saranno solo i figli e Dio ti dice a bar da fa figli è già l'amore perché in chiesa in cielo troverai solo i figli amén perché gli adolescenti hanno sempre la crisi di identità perché pensano di non piacere a nessuno e stanno sempre alla ricerca di qualcuno che gli dice tu mi piaci ma pure loro non si piacciono gli adolescenti e brufoli non mi piace come sono brutte è vero genitori che avete figli adolescenti o che avete avuto figli adolescenti vi ricorda questo particolare avevano sempre bisogno di avere approvazioni dategliele 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 a Napoli abbiamo un detto i figli sono pietsegore e tu glielo devi dire figlio mio tu sei pietsegore amén la paternità da eredità ai figli quanto è preziosa la paternità ascoltate senza paternità non c'è eredità siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo la persona orfana non ha eredità perché la paternità trasferisce eredità questo è il primo principio per fare che cosa per raggiungere i propositi che Dio ha parlato negli ultimi tempi il principio della paternità il secondo principio è la direzione dillo direzione la direzione ti porta alla destinazione la direzione ti dà ordine e governo nella tua vita non devi camminare per andare a zonzo spiritualmente parlando devi sapere dove stai andando amén se devi andare dicevo a Roma non prendi la Napoli Salerno o no tu muo devi da patente per andare a Roma c'è la Napoli Roma la Napoli Salerno ti porta a Reggio Calabria ok se vuoi andare a Reggio Calabria l'importante è che tu hai una destinazione precisa ma tu devi sapere dove devi andare qual è la tua destinazione perché dove non c'è destinazione c'è disordine dove c'è disordine non c'è governo cosa fa Dio Dio dà direzioni la direzione ti porta alla destinazione la direzione stabilisce ordine di priorità su quello che devi fare e su quello che non devi fare hai una destinazione sai dove stai andando ascoltami in Giovanni nel capitolo 10 il verso 30 Gesù parla della sua assoluta unità con il padre e quindi quella che era la sua destinazione un verso brevissimo ma rivela una profonda verità 10 30 Giovanni io e il padre siamo uno amen è una potente affermazione breve semplice ma efficace non dice io e il padre saremo uno ma dice io e il padre siamo uno cosa testimonia questo una totale perfetta identità col padre ascoltatemi ma il fatto di essere uno non significa che sono la stessa persona perché c'è Dio padre perché c'è Dio figlio perché c'è Dio spirito santo quando Gesù parla del padre ne parla in ordine della posizione e della funzione paterna e in Giovanni nel capitolo 14 il verso 28 guardate cosa rivela Gesù avete udito che vi ho detto io me ne vado e tornerò a voi se voi non mi amaste vi rallegraste perché ho detto io vado al padre ascoltate poiché io e il padre poiché il padre è più grande di me come possono essere la stessa persona se Gesù dice che il padre è più grande di lui è come dire sapete la Bibbia dice che il marito e moglie sono una sola cosa ma sono due persone o no ma sono una sola cosa ma sono due persone cosa sta dicendo Gesù qui Gesù qui parla della funzione e cosa dice perché io e il padre perché il padre il valore è uguale che ha Dio padre Dio figlio e Dio spirito santo ma lui nella funzione è più grande lui è colui che dà direzioni lui è colui che ha il governo che ha la responsabilità che deve mostrare il cammino quindi l'essere capo non significa che non sei uno con tua moglie sei uno ma siete due persone però c'è un ordine che Dio ha stabilito ci sei? e su questa cosa sappiate una cosa il diavolo ci ha lavorato tantissimo per distruggere la direzione nella vita dell'essere umano ha confuso ha fatto confondere il valore con la funzione dillo il valore è la funzione sono due cose diverse il valore non non si discute valore ma si riferiva alla funzione ascoltatemi quando una moglie dice del marito lui è il mio capo non si sta sottovalutando non si sta sminuendo e questo è quello che il diavolo ha cercato di mettere rinda caparagente e ha cercato di portare una grande confusione tra il valore e la funzione quando una moglie dice lui è il mio capo sta dicendo una grande verità ma non sta sminuendo il suo valore non sta dicendo che lei è inferiore a lui il valore è uguale ma la funzione è diversa quello che dio ci ha dato è diverso amen quindi dillo c'è diversità tra valore e funzione molti nella chiesa vogliono essere nutriti vogliono essere pastorati ma non vogliono essere governati sapete che significa non vogliono sottomettersi a nessuno vogliono che li ascolti vogliono ascoltare la parola vogliono essere consolati vogliono essere guariti ma non vogliono dar conto a nessuno vivranno una vita molto confusi perché dio ha stabilito un ordine di priorità nella nostra vita è un ordine di sottomissione e obbedienza per la nostra protezione e per il nostro bene ogni testo è tribunale non ci sta scritto in la bibbia ah sì dice sì non ci sta nella parola di dio ci sta la volontà di dio che deve essere adempiuta e ogni figlio che cosa il proposito è la volontà di dio e tanti vogliono ascoltare la parola vogliono essere consolati vogliono essere guariti ma non vogliono dar conto a nessuno cosa fa il padre viene e mette ordine e mette governo nella nostra vita sapete perché avete la mascherina perché abbiamo la mascherina perché stiamo obbedendo a un ordine del governo sapete perché c'è un distanziamento perché stiamo obbedendo a un ordine che il governo ha dato e quando c'è governo c'è ordine quindi primo principio paternità secondo principio direzione un solo regno un solo re una sola famiglia come raggiungerai questo obiettivo attraverso il principio della paternità attraverso il principio della direzione e il terzo principio stiamo concludendo il principio della comunione mentre incominciamo a fare un po' di musica cosa è la comunione dite la comunione non è l'ostia non è l'ostia la comunione dà vita la comunione trasmette la vita e permette il servizio Gesù ha detto il più grande tra di voi sia il servo è meraviglioso poterci servire cari dillo è meraviglioso poterci servire il più grande è il servo cosa abbiamo sofferto negli ultimi periodi nell'ultimo anno e più sapete sono stati minati i quattro pilastri della nostra fede che vengono riportati nel libro degli atti e il primo pilastro qual è l'insegnamento apostolico questo abbiamo cercato di arrangiare quando ci hanno permesso di aprire abbiamo riaperto quando dovevamo stare chiusi siamo rimasti chiusi abbiamo usato online però sapete non è la stessa cosa stare di presenza online tu fai all line voli abbiamo fatto riunioni con su zoom nella leadership io vi dico aprite il video e voi lo chiudete perché lo chiudete? perché in realtà fisicamente non siete lì presenti perché mentre poi ascoltate vi distrete in 150.000 cose mangi fai servizio a casa pulisci lavi ma non esiste la comunione online esiste la comunione indiretta di presenza ci siamo dovuti arrangiare però sapete un grande pilastro della nostra fede è stato rimosso quando ci siamo rivisti dal vivo c'è online post incontro 50 persone da vicino 10 persone 40 che non fin hanno fatto sono rimasti online lascia online viene di presenza perché la presenza è un'altra cosa il secondo pilastro la preghiera io spero che l'avete fatta a casa spero che avete fortificato il vostro rapporto con Dio ma noi non abbiamo smesso di pregare il martedì quando l'abbiamo fatto online che era praticamente tutto chiuso quando poi abbiamo potuto ricominciare non ci siamo fermati primo pilastro l'insegnamento apostolico secondo pilastro le preghiere terzo pilastro la comunione fraterna cosa è scritto nel salmo 133 come è bello e quanto è piacevole che i fratelli dimorano non divorano ma dimorano insieme nell'unità sapete solo se tu leggi quel verso ti metti una pace a inda mamma mia è come l'olio sparso sul capo di Aronne che scende fino all'orlo delle sue vesti e non cade a terra perché l'unzione non si perde è come l'arruggiata dell'Earmon perché è lì cioè nella comunione quella che ci stanno impedendo perché è lì che Dio ha ordinato la salvezza e la vita eterna noi vogliamo pregare Signore vogliamo tornare a una comunione genuina perché tu non sai le persone pensa pensa c'è ma piglia pugno non ci abbiamo potuto dare un santo bacio quello che la Bibbia parla che parla di comunione il terzo pilastro è la cena del Signore a un certo punto non ce l'abbiamo fatti più un sorello arrangiato mettetevi i guanda disinfettatevi tutti quanti fate i panini perché volevamo prendere negli Stati Uniti hanno quei bicchierini con il vino dentro che non è vino è succo d'uva e poi sopra ci sta il pezzettino che tu apri il primo froidio esce il pane quindi indivi bello tranquillo ma qui non ce l'abbiamo abbiamo detto sorella arrangiatevi fate metteteci un po' le buste di cielo fanno attorno tutto sterilizzato pulito con i bicchieri alleluia sapete quattro pilastri se ne togli due se prendi un tavolo con quattro piedi e togli un piede si reggerà? se togli due piedi si reggerà? se togli tre piedi si reggerà? si togli tutti i piedi sa poi un der la comunione dillo la comunione cosa si fa nella comunione? stiamo insieme ci accordiamo ci serviamo noi non abbiamo mai smesso ma quest'anno avremo di nuovo il nostro ritiro spirituale gloria a Dio quanto è bello e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità amén è lì che Dio ha posto la benedizione e la vita eterna grazie a tutti